Fano si tinge di rosa. Undici anni dopo l'ultimo passaggio, il Giro d'Italia proda nella Città della Fortuna che sarà arrivo della dodicesima tappa Martinsicuro Fano di giovedì 16 maggio. 193 chilometri che partiranno dal confine Abruzzo Marche in quello che sarà l'unico transito della Corsa Rosa in regione. Dall'Ascolano fino a Fano con un percorso che da Monte Cosaro si allontanerà della costa per poi entrare in provincia attraverso Monte Porzio, Mondolfo, San Costanzo, l'ultimo strappo sul Monte Giove prima del traguardo a Fano passando fra Lungomare, Via L'Adriatico, Via Gramsci e l'arrivo al Pincio previsto attorno alle 17. Fano si prepara ad una maxi organizzazione che da oggi ha cominciato a liberare 2.000 posti auto e prevede dalle 13 alle 18 di domani la chiusura al transito di ben 178 strade. Per domani sia il comune di Fano che quello di Mondolfo hanno anche messo l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado. Tutti in strada dunque a colorare di rosa l'arrivo del giro e a scrutare le geste del campionissimo Pogacar così come dei portacolori italiani Tiberi, Zana, Milano, Pozzovivo.